Allora, mi è venuta l'idea di fare questo video mostrandovi i miei costumi di quest'anno. Naturalmente non li indosso, ci mancherebbe, sono una signora d'età e spero che nessuno si scandalizzi, nel senso non sono mutande, sono costumi da bagno. Allora, questi qui in versione bianca e in versione fucsia, li ho presi in un negozietto qui del paesino del mare, non sono particolarmente ridotti e non fatevi spaventare. Certo, qui c'è un po' di trasparenza sul fianco, però sono morbidi, poi se prendete la taglia giusta. La versione fucsia ha i laccetti giallo vivo nello slip e nel reggiseno che è leggermente imbottito e ha dei piccoli ferretti laterali che si possono anche togliere, ha il laccettino tutto fucsia, però il motivo qui del cordino intrecciato è giallo vivo e le nappine come il bordino ulteriore della scollatura sono di un bellissimo azzurro forse intenso, ok, morbidi, belli. C'è la versione invece in bianco con laccetti fucsia allo slip e c'è nappine arancio e nappine fucsia e arancio al reggiseno. L'allacciatura è un'opera di ingegneristica, non è proprio semplicissimo, però se siete di corsa lasciate perdere se avete qualche minuto di tempo. Sono rifiniti benissimo e sono fatti veramente bene. Questa credo che sia una taglia 46, comunque, ok. Quello lì invece l'ho preso al mercato, devo dirvi la verità, dunque questi mi sembra che costavano non pochissimo, è l'uno, mi sembra sui 35 euro, 38 euro l'uno. Questi costavano 20, però è una licra pessima, nel senso che sembra plastica. È grazioso, sì non sta male, è molto semplice lo slip, molto semplice anche il reggiseno, leggera arricciatura, si allaccia dietro con un fiocchetto, ma il materiale è veramente bruttissimo, però vabbè, si può usare. Poi invece da Golden Point, quando siamo andati a fare la gita spezia, ho preso questi tre. Allora qui naturalmente la qualità è tutto un altro discorso, sicuramente una qualità superiore. È una licra, non mi ricordo come si chiamava, licra soft touch, qualcosa del genere. È una licra setosa, di una morbidezza pazzesca e che vi super consiglio, andate a dare un'occhiata su Golden Point, non so se vendono anche online. Questo color maiolica ha un leggerissimo, delicatissimo motivo di perline solo sul reggiseno. Sì, ogni tanto ci sono delle perline azzurre e ha questo color maiolica, diciamo, e quindi c'è dentro del bianco, dell'azzurro e del rosso molto molto scuro, quasi marrone. Ma è molto bello, è un modello classicissimo, leggermente arricciato sui fianchi, reggiseno anche qui con una piccola sticka laterale, leggermente imbottito, ma anche qui l'imbottitura si può sfilare, regolabile, lacciatura dietro con un gancetto, ma insomma morbido, materiale, veramente materiale stupendo. Questo qui sempre ha un disegno che mi piace moltissimo, forse come disegno quello che mi piace di più. Poi tra l'altro sono tutti ben foderati, è in tinta. Allora, mentre quelli lì non sono foderati. Questi sono foderati e quindi sono molto più sostenuti come materiale e anche qui la mutandina è abbastanza classica, non alta come questo, però sempre abbastanza alta. Reggiseno con questo bellissimo incrocio, anche questo, tutti e tre hanno un piccolo incrocio in mezzo. Qui si chiude dietro allacciandolo e agli spallini regolabili. È tutto di un... sì, è un rosa fucsia con questi arabeschi, bluetta, azzurro, giallo, con parecchi colori, insomma. Scusate, si sta spegnendo il cellulare. E infine questo, diciamo anche qui, ancora un pochino più ridotto, forse questo però quello che mi piace di più di tutti. Ha questa bella fantasia indaco, sapete che vado pazza per l'indaco rosso e con delle piccole foglie d'oro disegnate, foder foder a indaco e il sopra anche questo si allaccia dietro con dei nastrini e quella spallina va infilata nel nastrino. Anche questa è un'opera ingegneristica di non poco conto, però se avete fretta mettete questo qua. Ecco, se avete un po' più di tempo potete infilare gli altri. Questo è il mio parco costumi, sono sei. Questo è un breve video, volevo giusto farvi vedere il mio parco costumi. In realtà ne ho degli altri che però sono molto vecchi e diciamo non c'è niente di carino da vedere. In realtà tratto e reggiseni li ho sostituiti con dei vecchi costumi che avevo in casa perché mi stringevano, ma non importa. Quindi video flash, velocissimo, sei minuti o poco più. Amiche e amici, dalla vostra gattaluna un grande abbraccio, un bacione. Non mi faccio vedere perché sono appena trovata dalla spiaggia, devo fare la doccia, sono impresentabile. E dicevo e quindi fate quello che vi fa stare bene e alla prossima. Ecco il parco costumi. Quale vi piace di più? Ciao ciao!